Ciao a tutti! Eccoci di nuovo insieme, oggi farò un abitino di tessuto elastico, completamente elastico, non userò la squadra ma bensì prepariamo un cartamodello da soli, senza l'aiuto di niente. Facciamo un rettangolo della larghezza della metà della circonferenza, fianchi e la lunghezza che chiaramente noi desideriamo. Questo abito praticamente ha una sola cuscitura sul lato sinistro, mentre la parte destra è sulla piega del tessuto che abbiamo piegato in due parti mettendo la scimmosa sulla scimmosa. Ok, prendiamo la lunghezza sotto il giro manica, dalla scella in basso, così siamo sicuri di non sbagliare perché in alto non abbiamo proprio la spalla, abbiamo il collo. Quindi questo è il punto, scendiamo giù quanti centimetri che desideriamo. Questa è la parte che metteremo sulla piega, dove abbiamo piegato il tessuto mettendo la scimmosa sulla scimmosa. Ecco qui, quindi lì taglieremo e avremo la cuscitura. Questo è il giro manica, abbiamo la parte dell'incavo e una spalla immaginaria dove eventualmente potremo anche cuscire una manica se lo desideriamo. Ecco, da questo punto c'è un accenno, appena appena un accenno di spalla che poi prosegue con il collo. Abbiamo un collo ad anello che cade e che scende anche sulla spalla. Anche lì ci sarà una cuscitura. Ecco, quindi a quel punto poi si dirigirà, da una parte scenderà sulla nostra spalla, avrà un po' di movimento. Ok, ora abbiamo bisogno anche di un'altra apertura per la nostra manica. Quindi prendiamo la circonferenza della parte, il bicipite, la parte superiore prima della spalla del nostro braccio, più o meno alla stessa altezza della scella, segniamo una linea che è pari, pari ad un quarto della circonferenza del nostro braccio, della parte superiore del braccio. Facciamo tipo un triangolo, però se il braccio è magro non c'è neanche bisogno, basta aprire quella parte dritta che ho disegnato, dipende un po' da tutti. Comunque questo è il punto dove si prende la circonferenza. Ok, ora praticamente abbiamo, come ho detto, questa parte la cuscitura, abbiamo il giro manica che rimarrà aperto, apriremo questa parte per far uscire la mano e quindi sicuramente possiamo andare a tagliare il nostro abitino. Ecco, come vi ho detto, pieghiamo il tessuto, quindi abbiamo due strati, quindi da una parte avremo appunto la piega del tessuto, dall'altro sarà aperto e sarà la parte dove poi cuciremo l'abito. Ecco, ora tagliamo, praticamente dobbiamo tagliare da questa parte, in basso e poi possiamo andare a cuscire. Ok, ecco l'abito già tagliato, ho lasciato un po' meno di un centimetro oltre il cartamodello per cuscire con la taglia e cuscia e praticamente ho lasciato aperto il giro manica, l'altra parte per far uscire la mano e chiaramente la parte superiore per il collo. Ecco, quindi come vedete ho cuscito sia l'abito che una magliettina, la magliettina ancora al rovescio, comunque l'ho lasciata così per farvi vedere che ho cuscito con la taglia e cuscia e mi raccomando quattro fili e questo è il collo che cade. Torniamo all'abito, ho lasciato aperto le due parti per il braccio e rifinite chiaramente. Questo è il collo, da questa parte il collo cade un po' dalla spalla al braccio e dall'altra parte lascia la spalla completamente scoperta. Questo è l'abito, se lo vedete un pochino più largo aggiungete qualche centimetro. Buon divertimento, alla prossima!